c'è un'altra tecnica che si può utilizzare molto particolare molto carina che è quella del picchettamento delle piccole percussioni sempre in senso orario e queste sicuramente hanno l'azione proprio di stimolare la defecazione potete sentire dei rumori a livello del colon ma proprio per l'attivazione della peristalsi altra manovra è un impastamento per pizzicottamento trasversale quindi in questo senso si sollevano le pliche e si scorbe il tessuto anche questo lo ripetiamo alcune volte 4 5 volte e poi andiamo a lavorare ancora con la frizione bimanuale simultanea sulla parte laterale con le mani sovrapposte frizione ellittica un po più in profondità e andiamo a lavorare con i tessuti più profondi alcuni punti come in questo caso sentiamo l'orto addominale possiamo arrivare a sentire il battito dell'orto addominale molte persone accusano una tensione a livello addominale quindi questo massaggio ha la funzione proprio di togliere questa tensione altra cosa importante il massaggio dell'addome quando ci sono delle diciamo delle disfunzioni a livello degli organi interni si deve lavorare non solo la parte dell'addome ma bisogna andare a lavorare anche posteriormente la parte ovviamente della colonna lombare soprattutto a livello delle radici nervose che vengono che ovviamente vanno a innervare gli organi interni ancora con la frizione bimanuale simultanea possiamo fare anche vedere la vibrazione seguendo sempre gli interni anche questa ha un'azione ovviamente stimolante sugli organi interni e possiamo chiudere il massaggio dell'addome passando dalla frizione bimanuale simultanea a un sforamento più leggero e chiudiamo in questo modo